Un percorso tra figurazione e astrazione, un viaggio nella pittura del Novecento Italiano e un grande evento per la città di Teramo, la mostra tra figura e segno da De Chirico a Fontana in programma da domani, martedì 1 settembre, nel pomeriggio di inaugurazione fino a domenica 27 settembre presso la Pinacoteca Civica in Viale Bovio. L'organizzazione è stata curata da Arte Contemporanea Maiocchi di Milano, progetto e catalogo curati da Roberto Alberton. Sì, abbiamo avuto questa fortuna, devo ringraziare l'Arte Contemporanea di Milano che ci ha dato questa opportunità. Sono circa 80 opere di un certo spessore, da De Chirico a Fontana credo che non tutti i giorni si veda una cosa del genere. Abbiamo già la mostra allestita, domani faremo l'inaugurazione 18.30. Invitiamo tutti a venire a vedere, più che altro per la curiosità, ci sono alcune chicche importanti, alcune opere, credo che veramente forse l'astraordinario momento che abbiamo a Teramo di fare queste opere non sarà ripetuto. Quindi credo che sia i giovani che si apprestano così con la cultura a imparare un po' l'arte, questo è il momento giusto per venire a vedere. Figura e segno, da un lato la rappresentazione del mondo reale, dall'altro quella dell'immagine pensata. Le due facce della stessa medaglia, la dicotomia che ha animato il mondo artistico sin dagli inizi del secolo scorso. Proprio tale aspetto è al centro della mostra, 80 opere di assoluta qualità, destinata a non lasciare indifferenti, ma ad emozionare il pubblico che affolerà in questo mese, si pensa. I locali della piena Coteca Terramana. Questa mattina abbiamo fatto vedere la stampa alla mostra, credo che anche loro sono rimasti soccati. poi c'è Dalleciti in maniera proprio particolare per far sì che poi ogni stanza, ogni stanza rimane soccata. C'è un Manzoni fenomenale, poi un De Chirico. Andate a vedere la mostra.